Claudio e Mario di nuovo insieme, la reazione di Juan Franciera Uomini e donne trono gay, Claudio e Mario sono tornati insieme, cosa ne pensa Juan Franciera? E' ormai ufficiale, Claudio Sona e Mario Serpa di Uomini e Donne sono tornati insieme. Un ritorno che ha sorpreso tutti i fan del trono gay, soprattutto dopo che la scorsa estate a Juan Franciera, l'ex fidanzato dell'ex tronista, aveva insinuato una storia clandestina con il veronese durante il periodo del trono. Un conflitto che ha tenuto banco nei mesi più caldi, con Mario che ha preso le distanze da Claudio e quest'ultimo che ha respinto tutte le accuse del modello spagnolo. Alla fine la diatriba si è sciolta come neve al sole e Sona è tornato tra le braccia del suo ex corteggiatore. Come l'ha presa invece Juan che, tra l'altro, ha fatto il suo debutto in tv nel programma MTV Riccansa. . . L'amico di Stefano Gabban non ha più rimpianti sulla sua relazione con Claudio Sona. E ha reagito davanti al ritorno di fiamma di Claudio e Mario con una certa diplomazia. . Cosa penso del riavvicinamento tra Claudio e Mario? In bocca al lupo Mario. Ha fatto sapere se erra alla rivista Eva 3000. . 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